benvenuti in questo nuovo video però ragazzi veramente comunicazione davvero importante salvatevi questa data domenica 11 settembre 2022 salvatevela perché presso il circuito internazionale di busca si svolgerà il quinto memorial pietro in crisse che cos'è questo memorial qualcuno se lo ricorda perché ho pubblicato un video l'anno scorso qualcuno forse l'ha dimenticato e qualcuno invece forse non lo sa ma è il memorial che lo scorso anno non solo mi ha regalato una coppetta ma veramente mi ha regalato una giornata all'insegna dell'emotività e dell'emozione perché è stata veramente una delle giornate più belle della mia vita in moto e non per la coppetta ma perché partecipare a questo evento organizzato dalla famiglia dagli amici che ricordano pietro che come noi aveva la stessa passione per moto è stato qualcosa di impagabile perché è stata veramente una giornata davvero emozionale quindi veramente vi aspettiamo numerosi sarà una giornata oltretutto dedicata prettamente alle moto moto stradali, pit bike, motarde una giornata all'insegna del divertimento, della solidarietà poi come vedete qua dal programma la giornata inizierà alle ore 9 e intorno alle ore 13 quindi nella pausa pranzo si svolgerà il giro in pista tutti insieme per ricordare questo ragazzo che non c'è più quindi vi aspettiamo vi aspettiamo perché sarà una giornata meravigliosa vi aspettiamo perché potremo condividere un momento di solidarietà e allo stesso tempo condividere un momento di passione per le due ruote e sarà anche un momento in cui potremo incontrarci quelli che scrivono nei nei commenti che mi chiedono Claudio ma quando è che andate in pista? Claudio anch'io sono un papà vorrei venire a girare con voi perfetto per favore parlatene con tutti quelli che conoscete tutti quelli che hanno una moto tutti quelli che hanno un motarda motostradale una mini moto fate quello che volete basta fare girare questo video e far sì che ci sia più gente possibile a questo memoria perché pietro venga ricordato perché questa giornata venga ricordata da tutti come una giornata l'insegna e la solidarietà delle due ruote quindi mi raccomando per favore fate girare questo video e ci vediamo domenica 11 settembre al circuito internazionale di Busca alla prossima ciao ragazzi ciao 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 ciao